Immagina di avere 18 anni e di fare il camionista. Sei per le strade di Memphis e stai percorrendo Union Street con il tuo camion quando ad un certo punto scorgi in lontananza la Sun Records. Cosa fai? Ti fermi, scendi e decidi di spendere 4 dollari per incidere due canzoni da regalare a tua mamma. Stai per diventare il re, ma questo ancora non lo sai. Elvis comincia così, comincia a 18 anni facendo il camionista per una società elettrica. Durante una delle sue passeggiate giornaliere con il camion decide di accostare in Union Street a Memphis e di fermarsi alla Sun Records per registrare due canzoni country su un vinile da regalare a sua mamma. Cioè, cosa c'è di più? Tutto parte con un regalo. In realtà alcuni storiografi... Alcuni storiografi... Ci vogliono vedere un pochino di malizia. Qualcuno dice che su Union Street la Sun Records non fosse l'unica a incidere dischi a pagamento. Ma Elvis Presley vuole provare, vuole andare dai migliori. Vuole provare sia perché vuole fare questo regalo a sua mamma e sia perché in un certo senso la musica è sempre stata la sua passione. E, insomma, magari se qualcuno per caso lo scoprisse, non sarebbe poi tanto male. E alla fine ci aveva visto giusto, perché nell'estate del 1953 Sam Phillips, che era il proprietario della Sun Records, aveva chiesto alla sua assistente di segnarsi nome e cognome di quel ragazzino che... Cazzo che voce che aveva! A gennaio del 1954 tornerà negli studi della Sun per registrare altre due canzoni ma questa volta Sam Phillips gli dice guarda, forse sarà il caso che firmi un contratto con noi. Elvis firma con la Sun Records e comincia questa avventura che lo terrà impegnato fino alla fine del 1955, legalmente. Cosa succede però? Succede che nell'aprile del 1954 un certo Billy Alley e le sue comete incidono Rock'n'Round Clock e Rock'n'Round Clock è un successo perché è l'inizio del Rock'n'Roll è l'inizio della febbre del Rock'n'Roll e a quel punto le radio esplodono Il 5 luglio Elvis cosa farà? Elvis cambierà le carte in tavola Sam Phillips li mette a fianco Bill Black e Scottie Moore che sono il contrabassista e il chitarrista più bravi in circolazione e insieme faranno quel groove tipico Le canzoni che incide Elvis in quella prima sessione sono canzoni tratte dalla cultura folk e dalla tradizione country americana e sì, sono grandi classici sono dei pezzi che rendono bene Elvis li sa cantare ma non è quello il modo in cui si può far uscire davvero la potenzialità dell'artista e Scottie Moore e Bill Black si accorgono che qui insomma sono tutti un po' sottotono decidono di pigliarsi una pausa finché ad un certo punto Elvis prende la chitarra acustica e nella pausa inizia a fare un paio di accordi e a cantare That's alright mama No 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 e a quel punto Sam Phillips entra anzi irrompe nella stanza e dice ma ragazzi ma attenzione non mi interessa se gli altri la conoscono meno adesso la incidiamo immediatamente ne conosci altre così sì ne conosco altre bene le facciamo tutte ed è così che nasce la leggenda di Elvis Presley così ecco in tutta quella situazione lì grazie a un successo di qualche anno prima tra le varie incisioni che Elvis farà con con la Sun Records ci sono anche appunto I Love You I Got A Woman che è un grande classico di Ray Charles Baby Let's Play House il contratto con la Sun va avanti fino a fine 55 ma nel frattempo Elvis Presley conosce il colonnello Parker che diventerà il suo manager nonché una delle figure più controverse nella storia del rock il quale lo metterà in contatto subito con la RCA che era la più grande casa discografica negli Stati Uniti in quel momento cosa fa l'RCA? l'RCA ha fretta di far uscire un singolo il 10 gennaio del 1956 incidono Heartbreak Hotel che sarà la prima numero uno di Elvis Presley metteranno su un album grazie anche a 5-6 canzoni trafugate dalle registrazioni fatte con la Sun Records la fretta di vendere era tantissima l'ultima nozione pippottistica è che mi incuriosisce perché secondo me è pazzesco pensarlo oggi pensare che oggi un artista esca con una sequenza di album di questo tipo il primo album si chiama Elvis Presley il secondo album si chiama Elvis il terzo album Elvis Christmas album e il quarto album Elvis Is Back pensare a un poker di album dove c'è il nome dell'artista in copertina quindi il nome dell'artista e il nome dell'album credo che sia impossibile oggi Elvis quindi grazie al colonnello Parker grazie o per colpa del colonnello Parker inizia anche a lavorare nel cinema voglio parlarvi di due film il primo film è un film del 1957 ed è Jailhouse Rock Jailhouse Rock è un grandissimissimo missimissimissimissimo classico è possibile trovare su internet il filmato del balletto principale di Jailhouse Rock fatto durante le riprese del film in bianco e nero e a colori ora è fondamentale ricordarsi che nel 1957 non esistevano i video musicali quindi quello che vedrete ricordatevi che è uno spezzone di un film fatta questa premessa vi consiglio di guardare il video prima in bianco e nero dopodiché passate al Technicolor e vi si apre un mondo cioè a parte che riuscite a capire visibilmente anche del bianco e nero lo capite ma quando diventa tutto a colori capite che l'età media del corpo di ballo è 75 anni e pensare ai balletti di Beyoncé oggi e pensare ad Elvis Presley con un corpo di ballo di 70 anni mi fa davvero cioè mi fa troppo strano mi fa ridere un sacco perché sì è vero Elvis era una figura che doveva essere venduta lasciatemi passare il termine ai giovani ma chi controllava le case discografiche chi controllava il cinema beh ancora la vecchia leva pur essendo un teen movie negli anni 50 era impossibile che tutto il cast fosse di teenagers un'altra cosa che mi fa ridere un sacco è che quando vedete durante il balletto ci sono degli ottoni quindi ci sono sassofoni trombe, tromboni in bianco e nero pensate che siano sassofoni tromboni eccetera quando la vedete a colori scoprite che sono dei cartonati dei cartonati come fa a girare un film con i cartoni le sagome di cartone secondo anche un po' la morale del colonnello Parker che incarnava tutti gli ideali dell'epoca Elvis doveva assolutamente fare il servizio militare e così nel 1958 venne al suo ritorno dopo un anno di pausa dalle scene torna con un nuovo album e nel 1961 un nuovo film Blue Hawaii parla della storia di un soldato ovviamente e torna dalla guerra e torna a casa sua nelle Hawaii guarda che originalità e questo soldato beh si ritrova a fare i conti con la propria famiglia che vuole che assolutamente Elvis si occupi delle piantagioni di ananas siccome ad Elvis delle piantagioni di ananas non frega assolutamente niente decide di aiutare la fidanzata che ha una molto più allettante agenzia turistica si mette a fare la guida turistica e guarda un po' arrivano delle ragazze assolutamente molto interessanti ed Elvis inizia ad aiutare queste ragazze però sempre con occhio estremamente professionale ma c'è una scena che mi ha fatto davvero riflettere molto una delle ragazze scappa durante la notte dal dormitorio Elvis corre all'inseguimento di questa ragazza per riportarla ovviamente dalla sua supervisitrice dalla sua supervisora ora cosa succede? succede che Elvis prende questa ragazza e prima di riportarla nel dormitorio la prende se la mette sulle ginocchia e la sculaccia ragazzi la sculaccia c'è una scena meravigliosa ed è sconvolgente se ci pensate cioè a me fa spaccare da ridere da un lato dall'altro lato mi fa davvero piangere perché penso che tra i due la più rock era la ragazza che è scappata Elvis in quel caso è vittima di una sceneggiatura estremamente didascalica e che descrive quella che è l'America dell'autorità patriarcale ecco un altro dei film più importanti è sicuramente Aloha from Hawaii via satellite del 1973 per la prima volta un concerto viene trasmesso via satellite worldwide in tutto il mondo e viene guardato da oltre un miliardo di persone anche qui una cosa simpatica è pensare che viene trasmesso in diretta mondiale quello che è considerato forse l'ultimo concerto di Elvis prima del declino è il concerto più bello prima del declino viene trasmesso a tutto il mondo ma non negli stati uniti perché c'è il super bowl quindi negli stati uniti lo guarderanno con un giorno di ritardo l'America è meravigliosa due ultime cose la prima Elvis ha sempre odiato l'epiteto di il re però se voi andate su google e scrivete Elvis Presley in automatico google vi fa uscire come risultato della ricerca the king cioè fantastico però è davvero è stato davvero Elvis il padre del rock and roll sicuramente sì sotto l'aspetto dell'immagine della figura di quello che ha rappresentato con il suo portare quella sessualità nella musica che è stata la vera rivoluzione però quando viene fuori viene pubblicato il primo album di Elvis Elvis Presley quello del 1956 all'interno ci sono una serie di cover cioè non ci sono brani originali sono tutti pescati dalla tradizione blues in particolare c'è una delle versioni più famose di tutti i frutti che è stata però incisa da Richard Pennyman ovvero Little Richard e quindi se proprio uno vuole considerare un re del rock and roll in termini di origini delle canzoni probabilmente questo dovrebbe essere Little Richard cosa succede però che le questioni razziali come ci sono oggi c'erano all'epoca però ecco appunto all'epoca c'era una grossa distinzione per cui c'era la musica dei bianchi e la musica dei neri i neri ascoltavano il blues i bianchi ascoltavano il country trovare Elvis Presley che era un bianco con la voce da nero era proprio quello che Sam Phillips voleva è quello che poi l'America ha elogiato e idolatrato per anni 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 fino all'arrivo della British Invasion con i Beatles che hanno scalzato il re dalle classifiche e cheppure sono grandi debitori di Elvis e lo stesso John Lennon dirà che prima di Elvis non c'era niente ultima cosa prima di chiudere una super chicca che voglio regalarvi dato che in questo periodo ci sono un sacco di film legati al mondo comics voglio dirvi che Elvis Presley era un grandissimo fan dei fumetti di Capitan Marvel Junior ovvero un personaggio della Fuset Comics che poi è stato acquisito dalla DC Comics Elvis era così fan sfegatato di Capitan Marvel Junior che si è fatto crescere il ciuffo quindi il ciuffo di Elvis Presley in realtà è stato ispirato da questo personaggio dei fumetti e ha anche costume con il mantello a metà schiena ecco il mantello a metà schiena è tipico di Capitan Marvel Junior prima di lasciarci non dimenticatevi di iscrivervi al canale di attivare la campanella per le notifiche ed essere sempre aggiornati sull'uscita dei nuovi video condividete se vi è piaciuto lasciate un like e soprattutto lasciate un commento perché sono curioso di sapere quello che pensate le vostre opinioni iscrivetevi 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 e condividete e anche sui canali social Instagram Facebook e tutto il mondo pace amore rock and roll ci vediamo alla prossima